E' l'ultimo motivo, non l'ultimo ma l'ultimo di quelli che citiamo adesso E che tutto sommato poi è stata anche la base di molte partecipazioni al festival di Salso Maggiore E' stato quello di far conoscere il proprio gruppo, magari avere un piccolo gruppo, un piccolo combo non ancora professionale Fare dei video artigianali in casa, mandarli per farsi conoscere Credo che sia più o meno il motivo che ha spinto questo gruppo che si chiama Take for Run Occhio e croce voglia dire, credo, prendi i soldi e scappa A mandarci questa che è l'ultima videolettra del ciclo 82-83 di Mr. Fantasy Il suo titolo è Tecno Spray, vediamocelo insieme Oh, hello, hello, hello Oh, hello, 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 hello Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.